La manovra economica del governo Monti, oramai addirittura di arrivo dopo l'approvazione alla Camera, non convince l'UNCEM. Ad uscirne fortemente penalizzati sono, ancora una volta, soprattutto i piccoli comuni, la maggior parte dei quali si trova nei territori montani. Se partiamo dall'estate del 2010 con l'approvazione del famoso decreto legge 78 da parte del governo Berlusconi, questa di Monti è la sesta manovra nel giro di un anno e mezzo nella quale non c'è il minimo accenno alle politiche della montagna. Non c'è nessun accenno alle politiche della montagna e al fatto che esistano in Italia del 60% dei territori disagiati e quindi è logico che sul fronte dei servizi, sul fronte delle risorse e io direi sul fronte dello sviluppo, c'è questi territori che hanno bisogno di azioni specifiche. Venendo ai singoli provvedimenti, con l'IMU l'imposta municipale unica si rintroduce di fatto l'ICI, sulla prima casa che soprattutto per i comuni di piccole dimensioni rappresentava una risorsa fondamentale, ma in questo caso i comuni non trarranno nessun vantaggio perché svolgeranno soltanto la funzione di esattori, mentre le risorse andranno tutte allo Stato. L'IMU della prima casa che è il 4 per mille andrà tutto allo Stato, a meno che i comuni non decidano di aggiungere un 2 per mille per loro, ma vuol dire ulteriormente ricolpire i cittadini. Sulla seconda casa, terza o quarta casa, sulle attività produttive è il 7,6 per mille, di cui la metà andrà al governo. Quindi noi complessivamente rispetto a prima, che non avevamo l'ICI della prima casa, ma solamente quelle delle seconde, avremo meno risorse. Quindi, come si dice, siamo bastonati due volte. Per quanto riguarda i provvedimenti sulla crescita e lo sviluppo, dei quali i comuni montani non potranno avvantaggiarsi se non in modo marginale, permangono molte riserve. In questa manovra non ho visto, soprattutto per la montagna, piccoli comuni, grandi azioni per lo sviluppo. Questa manovra è incentrata su 34 miliardi, più di 20 sono in tasse e tagli. Solo 10 sono per lo sviluppo e soprattutto servono per alcuni settori che possono aver ricaduto anche in montagna, ma non sono determinanti. Noi avremmo bisogno in montagna, visto che si è dato dimostrazione in questi anni di tenere come tessuto, come piccole imprese legate alla qualità, ai prodotti e al territorio, avremmo bisogno proprio di azioni specifiche. Quindi, a mio giudizio, partendo dal piccolo commercio, arrivando all'azienda agricola e passando per l'azienda artigiana, abbiamo bisogno che ci siano delle politiche specifiche perché ho l'impressione che la montagna possa dare tanto sul fronte occupazione, però bisogna dargli gli strumenti a coloro che stanno in montagna di avere un reddito congruo e di poter andare avanti. La manovra prevede anche l'abolizione delle province, sulla quale l'UNCEM si trova d'accordo per quanto riguarda il merito, nel senso che in qualche modo si doveva arrivare al loro superamento, ma assolutamente in disaccordo per quanto riguarda il metodo. Secondo me le province sono un ente che ormai è diventato un ente quasi inutile, forse andavano riformate prima, accorpate, forse hanno un valore di aria vasta, non tanto come sono ora perché si sovrappongano ai comuni e alla regione e il metodo è allucinante perché si continua a fare come si è fatto per le comunità montane, si alza uno la mattina e decide di tagliare in maniera lineare a prescindere. Ecco, questo sarà una cosa non semplice perché elevare le funzioni, svuotare le funzioni alle province saranno lavoro in mane, in una fase dove mi sembra la carta dell'autonomia locale che è il codice delle istituzioni non è ancora stato fatto, quindi fare le riforme a sonde finanziarie senza avere un quadro preciso è il rischio che alla fine la toppa è peggio che del buco. Un piccolo successo si è ottenuto con l'approvazione da parte della Camera di una mozione che impegna il Governo ad inserire nel mille proroghe di fine anno il rinvio dei termini dell'articolo 16 che riguarda la gestione associata delle funzioni comunali e che l'UNCEM ritiene particolarmente penalizzante per i piccoli comuni, dal momento che tra le altre cose introduce il patto di stabilità per i comuni sotto i 5 mila abitanti. Vuol dire che in montagna non si farà più investimenti e rischia veramente di compromettere un tessuto sociale che in montagna è fondamentale legato al sindaco, agli assessori e consiglieri e alla rappresentanza democratica istituzionale. Quindi noi chiediamo uno stop e siamo pronti alla sfida di mettere insieme le funzioni fondamentali come prevede la finanziaria del 2010, però senza discriminazione di comuni di un modo o di comuni di un altro. Quindi noi speriamo che il Governo questo lo condivida anche perché chiudendo le province in prospettiva diventano sempre più fondamentali le unioni e quindi è logico che dentro le unioni ci devono stare i comuni sotto mille come i comuni sopra, insieme in un ambito ottimale e poter portare avanti le politiche e le funzioni di quell'ambito per migliorare i servizi e nel principio del risparmio, razionalizzazione e sviluppo. Infine anche sul fronte della lotta all'evasione fiscale con la manovra si fa troppo poco e soprattutto sono rimaste completamente inascoltate le proposte provenienti dall'UNCEM. Noi abbiamo chiesto azioni specifiche, abbiamo chiesto di poter entrare nelle banche dati comuni nazionali tipo la granagrafe tributaria e il Catasto per avere a livello locale la possibilità di fare la lotta all'evasione fiscale come stiamo facendo in Toscana, abbiamo chiesto azioni sui grandi patrimoni e su coloro che non dichiarano, è venuto fuori sui giornali nei giorni scorsi che 15 milioni di italiani risultano a zero titoli, a zero patrimonio, quindi c'è da lavorare. La cosa che non accetto sulla manovra è che si sia voluto colpevilizzare tutti i cittadini, questo fatto di mettere sotto sorveglianza tutti i conti correnti dei cittadini italiani vuol dire partire dal presupposto che tutti i cittadini sono colpevoli, siamo l'unico Stato mi sembra nel mondo che abbia fatto questo, quindi io penso che invece il governo con le istituzioni devono fare la rovescia, cioè attrezzarsi per andare a colpire chi non paga e invece che colpevilizzare tutti e fare la maniera che tutti possano scaricare tutto perché questo sarebbe un passo avanti anche per rendere la luce del sole e tutto quello che viene fatto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!